buongiorno a tutti buon lunedì buona festa della donna perché oggi che sto registrando il voice over l'audio è l'8 marzo e cominciamo questa settimana di pulizie che è la settimana che appena trascorsa pulendo la cucina e i fornelli perché la domenica in genere quasi tutte le settimane è di relax di diciamo quasi nulla facenza completamente quindi poi al mattino bisogna pulire quindi io vi lascio al video come vedrete saranno pulizie prettamente ordinarie questa settimana non sono andata a fare niente di specifico perché comunque pia è un periodo che mi sta sempre appiccicata che vuole sempre molto la bubu e quindi sono riuscita a fare molto poco oltre alle cose diciamo ordinarie che alcune non vedete non vedrete perché mi sono dimenticata o di filmare oppure ero molto di corsa quindi ho cercato di far veloce perciò non mi sono proprio ricordata di prendere il cavalletto di mettere sul telefono farvi vedere comunque diciamo che anche questa settimana è passata i lavori sono stati fatti e quindi adesso vi lascio veramente al video e ci sentiamo dopo ciao 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 ci sono dieci a stirare e adesso attacco una nuova asciugatrice così per domani ha finito e pieguerò adesso sistemo la cucina vi ha fatto il caffè giara e poi andiamo a dormire non vi filmo tutto perché tanto riordino della cucina sempre lo stesso vi faccio poi vedere alla fine la faccio vedere pulita e vi saluto cucina in argine pulita domani è un altro giorno c'è Pia che fa un po' di erogne la roba che vedete sui retti è la roba pulita piegata che si devono mettere a posto e adesso andiamo giù grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ciao grazie a tutti 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 but you I want nobody 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 but you